City Car, vetture elettriche, monovolumi, super sportive. La gamma delle vetture Renault è estremamente variegata, ma con il nostro ospite in studio andremo a scoprire anche il reparto dei veicoli commerciali. Abbiamo voluto fare le cose in grande questa sera qui in studio a Safe Drive. Per spiegarvi il motivo introduco subito il nostro gradito ospite, Francesco Fontana Giusti, direttore della relazione esterna Renault Italia. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti. Dicevo, cose in grande perché alle mie spalle abbiamo un veicolo dalle grosse dimensioni che appartiene al segmento, definiamolo così, dei veicoli commerciali. Però prima di addentrarci Francesco in questo ambito partirei da una dimensione un po' più piccola perché da poche settimane avete lanciato sul mercato italiano Renault Twingo che credo che in termini di volumi e di importanza abbia il merito di dover essere affrontata per primo. Sì, il nuovo Twingo con la sua innovativa architettura con motore posteriore è veramente rivoluzione del segmento delle city car. Io invito chi ci ascolta a andare a provarla nei concessionari perché offriamo il miglior raggio di strassata della categoria, la miglior visibilità, il miglior spazio interno e dunque provare per credere perché le parole non bastano. L'altra cosa innovativa su questa vettura è che è la prima volta che la lanciamo nella versione 5 porte e questo non sembra perché le manine delle portiere posteriori sono integrate nel montante e dunque ha un design sportivo. La Twingo è 10 cm più piccola all'esterno ma 33 cm più grande dentro. E questo cosa vuol dire in città? Vuol dire che puoi spostarti più facilmente, parcheggiare più facilmente. Per quanto riguarda lo spazio interno abbiamo dei numeri impressionanti, la possibilità di introdurre degli oggetti lunghi 2,31 m, abbiamo 52 litri di vani portaoggetti che sono 24 litri in più rispetto alla Twingo precedente e abbiamo anche degli spazi alle ginocchia veramente impressionanti. Il terzo punto è la visibilità, questa seduta rialzata, questo ampio parabrezza, il fatto di non avere il motore davanti, un muso corto ti offre veramente una visibilità sulla strada senza pari. L'ultimo punto che secondo noi è molto forte su Twingo è che è ultraconnessa perché viviamo in un mondo sempre più digitale. C'è questo sistema che proponiamo che si chiama R&Go che permette di connettere direttamente il tuo smartphone alla vettura e usufruire di navigazione, multimedialità e via dicendo. Ecco, potendo fare un parallelismo se vogliamo definirlo storico, Davide che può essere la Twingo contro Golia che invece trafica le nostre spalle. Se compariamo Trafic e Twingo, da una parte abbiamo Twingo, l'abbiamo detto, con questa innovativissima architettura con motore posteriore che offre dei vantaggi veramente al top della categoria e abbiamo un Trafic che, come vedete, è in studio perché si guida come un'automobile e è come un ufficio mobile. Aumentano le dimensioni di 21 cm e questo permette di inserire gli oggetti lunghi 4,15 m e c'è la possibilità di avere 90 litri di vani portaoggetti che è veramente il best in class come numero. Grazie ai 14 vani portaoggetti, dunque è uno strumento, è veramente un furgone da vivere e si guida come un'automobile. Si guida come un'automobile e ha i valori aggiunti in termini di comfort di un'automobile, navigatore, cioè quindi un veicolo sempre connesso che offre anche veramente grandi supporti a chi poi magari ci passa tutto il giorno all'interno di questo mezzo. È un vero ufficio mobile, come dicevo, perché ha degli strumenti all'interno dell'abitacolo come dei supporti per il telefonino, per il tablet, per il computer. C'è anche questo scrittoio ammovibile a formato A4 e questo permette a chi lavora tutti i giorni con questo mezzo di aver apportato di mano tutti gli strumenti di lavoro. E poi, come dici tu, comfort, perché al comfort di una monovolume abbiamo dei sedili con varie regolazioni, abbiamo il bracciolo anteriore che appunto aggiunge comfort all'interno dell'abitacolo. Comunque, oltre a questo, chiaramente le motorizzazioni che sono estremamente performanti, tra cui questa innovativa tecnologia Twin Turbo che abbiamo introdotto in questi vettori. E poi, qual è il valore aggiunto anche in termini di sicurezza? Perché poi anche chi utilizza questa vettura tutti i giorni deve essere in qualche modo protetto. Allora, Trafic è un veicolo estremamente sicuro sia in termini di sicurezza attiva che passiva. Sono tanti i dispositivi che aiutano all'assistenza alla guida. Abbiamo il Wide View Mirror che permette di vedere se c'è un veicolo nell'angolo morto. Abbiamo il doppio retrovisore a forma sferica che permette di spostarvi più facilmente. Chiaramente con un veicolo di queste dimensioni è utile. Abbiamo l'Heal Start Assist che è questa assistenza alla partenza in salita, utile anche per questo tipo di veicolo che ha un certo peso. Abbiamo l'Extended Grip che permette appunto un maggior controllo della strada grazie a un miglioramento della trazione in momenti di guida difficili. E tanto altro abbiamo gli ISP di serie. Per quanto riguarda la sicurezza passiva abbiamo chiaramente tutti gli airbag frontali, laterali e tanto altro. Dunque è una vettura totalmente sicura per chi lavora, fa tanti chilometri, come dicevi tu, in totale sicurezza e tranquillità. Da un punto di vista di motorizzazioni, poi per chi utilizza questi mezzi è importante avere anche il giusto equilibrio anche in termini di costi, di spesa per quanto riguarda poi il rifornimento, la benzina o il gasolio. Come avete lavorato da questo punto di vista? Trafico offre delle motorizzazioni totalmente innovative. Abbiamo fatto il downsizing che appunto abbiamo ridotto le dimensioni del motore pur mantenendo alto le prestazioni. Abbiamo due single turbo, due twin turbo. e chiaramente per chi guarda i soldi che ci sono in tasca è chiaro che partiamo da consumi, parliamo di 5,7 litri ogni 100 chilometri. Questo cosa vuol dire per il professionista? Vuol dire che può ridurre o riduce di un litro per ogni 100 chilometri rispetto al traffic precedente e gli permette di risparmiare circa 1000 euro ogni tre anni. Dunque c'è veramente un vero risparmio. Poi c'è il discorso prestazioni, come dicevo prima si guida come un'auto, appunto con questo twin turbo, questa nuova tecnologia twin turbo che arriva anche fino a 140 cavalli. Ecco, in chiusura Francesco siamo quasi a ridosso della fine dell'anno. È stato un anno per Renault molto importante. Lo citavamo all'inizio di questa chiacchierata. L'introduzione sul mercato di Twingo sicuramente è determinante per fare volumi, per accapararsi in una bella fetta di pubblico. Però non solo Twingo. Che bilancio diamo al 2014 in casa Renault ovviamente per quanto riguarda Italia? Tutti dicono che, attenzione arriva la crisi, ma la crisi può essere un'opportunità. Noi l'abbiamo colta nel gruppo Renault con due direzioni. La prima è l'innovazione e qui mi riferisco a Renault perché abbiamo fatto, come dici tu, tre lanci, abbiamo fatto Clio, poi Captur, adesso Twingo. Il secondo punto è il valore e per valore chiaramente mi riferisco a Dacia. Il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. Penso a Sandero, penso a Duster. Duster che in fase 2 ha veramente avuto un successo strepitoso. Il design piace e il prezzo è totalmente imbattibile. Grazie ancora e proseguiamo con la puntata.